Benvenuti al formicaio. Allora, come funzionano qua le cose? Lo scoprirete da soli, tanto non gli è difficile. I letti stanno là, stanno pure le cose vostre, va? I vestiti? I vestiti, vi tenete quelli. Quasti da coglione. La sacca vostra, là sta. Noi non viviamo niente. Le formiche non devono avere proprietà. I caschi e le scarpe. Basta. Non serve altro. E le armi? E le moto. Le armi e le moto. Calma, calma. Voi potete pure uscire. Però dovete stare attenti quando tornate che nessuno vi segue. Non lo sa nessuno dove sta il formicaio. Poi ci sono dei posti a Taranto Nuova dove non potete proprio andare. Comunque, se vi beccano, non dovete parlare. Ah, voca da sta chiusa. Sennò che la chiudiamo noi. Sennò che la chiudiamo noi.